Strategia di deployment Blue Green con GitHub Actions. Ciao, io sono Michele e oggi vediamo una delle strategie più comuni per quanto riguarda gli aggiornamenti delle nostre applicazioni web o siti senza che l'utente se ne accorga. Le strategie di deployment sono molto varie e sostanzialmente sono tutte pensate con i loro pro e i loro contro per permettere di aggiornare i nostri servizi o applicativi creando il miglior di servizi possibile. Oggi appunto vediamo la Blue Green. Cominciamo! Eccoci qui, facciamo il nostro disegnino. Allora, la strategia di deployment Blue Green prevede di avere due ambienti di produzione, uno chiamato Green e uno chiamato Blue, facciamo presto a capire quali sono, all'interno del nostro data center, può essere un data center in cloud o fisico on-premises. E solo uno, lo metto qui in grande, uno di questi per volta può ricevere il traffico di produzione. Partiamo con il verde. Facciamo una sorta di disegno di circuitino, di interruttore qui, dove da qui nel nostro ambiente entra il traffico degli utenti. Così. Possono arrivare tramite delle smart tv, possono arrivare tramite dei laptop, possono arrivare tramite degli smartphone. Ok? A seconda dell'applicazione in cui, dell'ambito ci stiamo muovendo. Il nostro traffico entra nei nostri data center e viene servito dall'ambiente verde che ha la versione 1 della nostra applicazione. I nostri bravi developer stanno sviluppando, hanno completato, hanno finito la versione 2. La versione 2 deve essere installata e sostituita con la versione 1 senza causare sostanzialmente disagi o senza che gli utenti finali, qui sotto, si accorgano di qualcosa. Allora cosa facciamo? Noi abbiamo un altro ambiente, questo, l'ambiente blu, e ci carichiamo qui la nostra nuova versione in arrivo, la versione 2. La versione 2 è quella che contiene gli aggiornamenti, magari punta anche a dei database di test, a degli ambienti o a dei servizi di collaudo, è tutto un ambiente per, diciamo, fare le nostre prove. Ma è dimensionato tale e quale nell'ambiente verde è pronto per ricevere il carico di produzione. Quindi noi lo prepariamo per bene, abbiamo tutto il nostro tempo per sistemare l'ambiente blu, e quando siamo, ci sentiamo a nostro agio, cosa facciamo? Beh, a livello di rete agiamo a livello di networking, di routing, e cambiamo il percorso, andiamo a dire il traffico non è più servito dall'ambiente verde, ma è servito dall'ambiente blu. Ovviamente prima di farlo, se abbiamo delle impostazioni dall'ambiente di test e così via, devono essere sostituite con gli ambienti di produzione, tipicamente se puntiamo a un database diverso e così via. Però il trucchetto sta proprio qui, noi prepariamo tutto quello che dobbiamo preparare nell'ambiente, diciamo, che in questo momento è spento, e poi cambiamo, giriamo il traffico. In questo momento, se avessimo una versione 3 che arriva, lavoreremmo sull'ambiente verde con la nostra v3, e quando tutto sarebbe pronto, faremmo questo tipo di gioco. Questa operazione è un'operazione che dà praticamente un servizio quasi nullo, perché il cambio di networking, a livello di networking qui, impiega una manciata di secondi. Quindi gli utenti che eventualmente vedono fallire una richiesta perché è rimasta sospesa durante il cambio di rotta, così via, saranno una quantità veramente limitata e per una quantità di tempo veramente ridotta, perché appunto avviene in una manciata di secondi. E quindi quello che si dice è un deployment a downtime quasi zero. Stiliamo un attimo qui i pro, i pro è una delle tecniche più facili da implementare, ok? Mi permette di fare test con calma, perché posso ragionare nell'ambiente spento, qui ho dimenticato di spostare la p, nell'ambiente spento quanto voglio, ma soprattutto, cosa che non abbiamo detto fino adesso, è mi offre una strategia di uscita in caso di problemi della nuova versione, un rollback, un tornare indietro è molto facile, perché io qui ho appena aggiornato alla versione 3, ma magari viene dalla telemetria o in qualche altro modo, il più elegante appunto serve con della telemetria in tempo reale, vengo a sapere, mi accorgo che ci sono dei problemi. Allora quello che faccio è ritornare indietro immediatamente, sempre spostando il mio percorso di rete, alla versione V2, sempre in una manciata di secondi, perché la versione 2 nessuno l'aveva toccata, l'avevamo lasciata lì ed era pronta a ritornare operativa nel caso ce ne fosse bisogno. Dalla parte dei contro abbiamo sicuramente i costi, perché abbiamo l'ambiente di produzione che è quindi duplicato, perché abbiamo verde e blu sempre presenti, due ambienti statici esattamente uguali che devono essere sempre a disposizione e quindi ho un costo più elevato, diciamo facciamo tra virgolette un 2x, ok? E certo posso usare l'ambiente di riserva per test e così via, ma ho un hardware che magari per i test è sovradimensionato, ma deve esserlo perché da un momento all'altro potrebbe ricevere traffico di produzione. E quindi diciamo ho anche doppi ambienti da gestire nel caso fossero doppi server, insomma ho tutto doppio e questo è sicuramente tra i contro. Bene, dal punto di vista teorico, architetturale, abbiamo finito qui, andiamo, passiamo alla pratica, dove creiamo velocissimamente una stupida applicazione web, notate che è una manciata di pagine, facciamo a mano su Azure questa implementazione del brewgreen e poi facciamo la parte automatizzata, perché tutto questo è automatizzabile, sulle GitHub Actions. Ribocchiamoci le maniche e entriamo nell'ambiente di sviluppo. Entriamo quindi nell'ambiente di sviluppo e creiamo una web application con il template di Visual Studio, così non dobbiamo scrivere codice per fare una web application, ma siamo interessati alla strategia di rilascio. Quindi faccio un nuovo progetto, prendo un template di un'applicazione ASP.NET e la chiamo bluegreen tutorial. Lascio le configurazioni di default, faccio create e questa è la mia web application. Faccio il solito F5 per vedere che tutto parta senza problemi. Ok, il mio template funziona perfettamente. Posso chiudere e ci siamo. Ora ci prepariamo al deployment. Ok, allora io ho già preconfigurato dentro il mio Azure un app service, che quindi è il server che ospiterà la mia applicazione, con già i due slot. Lo slot di default, di produzione e uno che ho chiamato pre-prod. Per creare ogni slot è molto semplice, basta dare add slot e gli si dà un nome. E ne posso creare fino a 20 o a seconda di quanto pago per avere questo server. Quindi ne ho il mio contenitore, qui ci caricherò la v1, qui poi caricheremo la v2 e poi faremo lo scambio senza causare downtime. E vediamo. Quindi vado nell'ambiente di sviluppo, faccio un bel publish qui, in Viso Studio, aggiungo un publish profile, vado senza pipeline, voglio fare l'operazione a mano, ma tutto questo è tranquillamente automatizzabile. È su Azure, è dentro una macchina, un servizio Linux. Eccolo qui. E lo carico direttamente in produzione. Qui non vado in quello di pre-produzione. Questa volta vado diretto. È la prima volta. Si crea il profilo. Ok. Chiudo e faccio publish. A questo punto l'applicazione viene compilata, impacchettata, fatto il caricamento, l'upload su Azure, facendo un F5 nel browser. Tra poco, eccolo qua, il bello zip di caricamento. Dovremmo vedere il sito disponibile nel giro di poco. Ecco, publish succeeded. Vado nel sito. Vado qui che ho l'indirizzo comodo. F5. Eccoci qua. La nostra applicazione è bella che pronta. Adesso, questa qui è la welcome senza scritte, facciamo la versione 2. Vado nell'ambiente di sviluppo. La rendiamo visibile. Vado, diciamo, qui dove c'è il welcome. Scrivo V2. Salvo. E di nuovo faccio publish. Però questa volta faccio un nuovo profilo di pubblicazione. e invece che caricarlo in produzione, vado nell'ambiente che io ho chiamato pre-produzione. Quello parallelo, in parte, dove faccio accadere tutte le cose con calma. Ok. Quindi ho il pre-prod, publish e vado. In un giro di pochi secondi dovremo vedere l'upload completato. Qui, se stiamo attenti all'indirizzo, vediamo che viene agganciato il suffisso pre-prod nell'indirizzo, in questa parte dell'indirizzo, che è lì dove andremo a testare l'applicazione manualmente. Adesso faccio vedere. Ok. Il publish è andato a buon fine. Restando nella pagina web, qui, in quella di produzione, così, non c'è... Ecco. Me l'ha aperta Visual Studio. Restando qui, in quello di produzione, io continuo a fare F5 e vedo ancora la versione 1. Invece, grazie a Visual Studio, mi ha già aperto questa pagina, qui, a questo indirizzo, io vedo la versione 2. e lo stiamo vedendo bello in grande qui. A questo punto, quello che io posso fare è anche mettere uno script di automazione. Benissimo. Allora, adesso vado a fare lo swap. Quindi, entro dentro la configurazione di Azure, vado nei deployment slot e gli vado a chiedere uno swap. Vediamo tra cosa. Allora, la mia sorgente è il pre-prod, cioè, qui, in pre-produzione, abbiamo la versione 2. Qui, in produzione, ho la versione 1. Quindi, il mio obiettivo è quello di prendere la versione 2 e scambiarla con la versione 1 in produzione. Eccoci qua. Quindi abbiamo il nostro source, che è pre-produzione, il nostro target, che è l'ambiente di produzione. Non ho parametri di configurazione. Qui, per esempio, non abbiamo fatto un lavoro con un database o altre cose. Faccio uno swap. Ci impiega un minutino. Quindi, metto in pausa il video e poi lo ricarico. Qui, dietro le quinte, sta succedendo esattamente quello che abbiamo detto prima. Quindi, vengono copiati eventuali settaggi, viene pre-riscaldata l'applicazione e poi vengono fatti i controlli per vedere che tutte le istanze siano operative e dopodiché viene girato il traffico. Ok. Abbiamo luce verde. Quindi, adesso, andando nelle schede del browser che abbiamo qui aperto, questa qui sta puntando, non ho ancora fatto F5, sta puntando all'ambiente di produzione. Faccio F5 e mi vedo una versione 2. Dall'altra parte che sto guardando l'ambiente di pre-produzione mi aspetto di trovare un welcome pulito. Faccio F5 e non vedo niente. È esattamente quello che volevo. Ho fatto uno scambio. Ok. Ed è qui che, per esempio, ho un vantaggio notevole che se trovo un problema nella V2 poco dopo il suo rilascio con uno swap di nuovo al contrario riesco a tornare indietro alla versione precedente che è già pronta, è lì ed è calda perché a sua volta il processo di warm-up è stato fatto di nuovo anche nell'applicazione che è stata scambiata nella versione vecchia che è andata nell'altro slot. E quindi posso di nuovo fare lo swap e tornare alla versione precedente allo stesso modo con cui sono arrivato in questa. Adesso ho fatto tutto manualmente. Possiamo fare la stessa cosa in maniera automatizzata. Allora, ho automatizzato il tutto con una GitHub Actions o meglio, un workflow che fa utilizzo di un po' di Actions dentro GitHub. Vi risparmio tutta la parte di caricamento del repository dentro GitHub, ma vi spiego il workflow che cosa ho fatto. Allora, ho utilizzato un template già pronto che ho trovato qui su GitHub. quando si fa Actions qui ci sono i nuovi workflow e c'è già il template per deploy net core application to Azure Web App che era proprio il nostro caso e poi l'ho un po' modificato e questo è il risultato finale. Ho seguito qui la guida. In pratica, cos'è? Ho scaricato il publish profile cioè è un file con delle informazioni di pubblicazione che dobbiamo trattare come un segreto e salvare qui nei settaggi Secrets Actions lo mettiamo dentro come Azure Web App Publish Profile lo si scarica dal portale di Azure quindi in questo caso l'ho voluto scaricare dal sito di preproduzione perché io vado a caricare in preproduzione e poi faccio lo swap e quindi faccio un get publish profile mi viene dato un file di testo che io copio e incollo il contenuto e lo metto nel segreto di GitHub tornando qua quindi poi ho configurato questo era il publish profile ho configurato la versione del .NET che era la 6 il template riportava la 5 e poi ho aggiunto questa variabile Azure Resource Group che mi serve più in fondo che è il resource group di Azure dove ho la mia applicazione però a parte questi dettagli andiamo a vedere cosa fa questo workflow scarica i sorgenti imposta il .NET alla versione 6 recupera i pacchetti dipendenze esterne compila e pubblica l'applicazione carica l'artifact disponibile nel workflow più avanti nei job più avanti e ci siamo qui nel job di deploy che cosa facciamo? scarichiamo l'artifatto l'artifatto pubblicato poco fa e utilizziamo il deploy to Azure Web App usiamo questa action già pronta fatta da Azure per essere utilizzata su GitHub gli diamo il nome della nostra web app si prende la variabile d'ambiente utilizzata sopra per l'autenticazione usa il secret che abbiamo specificato nel publish profile scaricato da Azure il nome del package che riutilizza lui prima noi andava bene di default il punto qui perché è nella radice del repository che in questo caso noi andava bene e andiamo a pubblicare ecco questo non c'era l'ho aggiunto io non c'era nel template di base l'ho aggiunto slot name pre-prod perché noi andiamo a caricare l'applicazione nuova la versione nuova nella pre-produzione e poi andiamo a fare lo swap per fare lo swap non c'era sostanzialmente una action già pronta sono dovuto andare un pochino più a basso livello con una riga di comando diretta di Azure command line allora ho fatto la login impostando le mie credenziali come secret ho seguito la guida che ho trovato in questo task qui in questa action qui e alla fine poi ho fatto la riga di comando per fare lo swap a zwebapp deployment slot swap dove il mio slot di partenza era la pre-produzione e il mio target è la produzione andiamo a fare un giro finale facendo una modifica di questo tipo vado qui su blue green tutorial chiudo un po' troppe schede aperte vado qui e vado a mettere nella pagina di home la versione 3 invece che 2 modifico direttamente qui i sorgenti faccio v3 commit changes a questo punto la action dovrebbe partire immediatamente perché c'è il trigger eccola qui che parte metto in pausa build siamo passati al deploy andiamo dentro ok abbiamo il deployment su pre-prod upload dello zip mi metto qui il pre-prod dovremmo vedere arrivare continuo a fare un po' di f5 la v3 eccola si è caricata la v3 nel frattempo qui sta succedendo la login faccio duplica tab tolgo il pre-prod qui vediamo che c'è ancora la 2 qui nelle pre-produzioni abbiamo la 3 qui abbiamo la 2 attendiamo la fine di swap slots metto in pausa ok qui me lo dà ancora che gira faccio f5 ma stavo già provando è andato abbiamo il pre-prod adesso si porta a casa il 2 ecco è completato di qua si è aggiornata anche l'interfaccia di github il pre-prod ovviamente si porta a casa la versione 2 l'ambiente di produzione adesso è alla versione 3 swap è completato con successo bene per oggi con le strategie di deployment ci fermiamo qui ce ne sono altre seguiranno altri video spero ti abbia imparato qualcosa magari lo utilizzerai anche nei tuoi progetti personali o al lavoro chi lo sa magari fammelo sapere nei commenti ciao e alla prossima ciao